Parto dalla moto e arrivo su uno dei suoi piloti. Buongiorno Alessandro Botturi. Buongiorno. Ben trovato. Grazie. Allora, presentazione è fatta, quindi un altro pensiero tolto perché ci sono anche quelli da fare. Come stai? Bene, dai, sono contento. Adesso abbiamo presentato la moto, abbiamo svelato la moto, i suoi particolari e tutto e adesso bisogna solo pensare a gennaio a dare il task per la vacanza. Come ti stai allenando? Sto allenando bene, abbiamo fatto le test mani tette, sono sempre allenato abbastanza bene fisicamente e adesso devo ricominciare a allenarsi e devo trovare la forma migliore. Ti è mancata l'Africa, non siete andati in Marocco, però avete fatto tanto in Francia e Spagna? Sì, ci è mancata sicuramente l'Africa, però è stata una scelta del team e dico sinceramente sono contento, non sono andato perché sono riusciti a lavorare, abbiamo provato tantissimo e io sono salito all'ultimo sulla moto e sono riuscito a modificarla alle mie esigenze. Ah, questa è la cosa più importante? Questa, secondo me, è la roba più importante perché le altre Dakar purtroppo non sono mai riuscito a cucinare un'autodosso perché ogni squadra nel 2013 sono salito alla partenza, con Bordone l'anno prima a Capatieve non l'avevo mai provato e quest'anno, almeno ho avuto tempo un mese di lavorarci sulla moto. La domanda che tutti si pongono, a quanti chili siamo arrivati? No, vabbè, con la prima sì. Come no? No, dai, stai mettendo in forma, stai mettendo peso. Ahia, quindi non rispondere, anzi no comment, è preoccupante. Sono vicino, mi sono vicino. Alla meta? Alla meta, dai. Per rimanere in tema, rimanere in vicino. Senti, le differenze salienti di questa moto rispetto alla precedente? La benzina ha cambiato tanto, hanno cambiato il porcellone. Nel senso, hai cambiato cosa? Le disposizioni della benzina, hanno fatto un serbatoio unico, monoscocca in carbonio. Ripartizione dei pesi? Ripartizione dei pesi, non ci hanno lavorato tanto, secondo me è veramente il punto di forza della moto, dove a pieno carico, a metà carico c'è veramente poca differenza e bene, dai, sono contento. Aspettiamo di parlare di metterla in pista davvero. Va bene. Grazie, ciao. Ciao, ciao.